... Voglio passare da casa sua prima di andare. C'è una cosa che devo prendere, ok? Allora ragazzi, scusate un attimo. Ah, oltretutto, questa dovrebbe essere la casa? Quindi la sua casa si trova vicinissima, ma neanche un metro dalla distanza del cimitero. Ehi, se ti serve qualcosa te lo prendo. Voglio farlo io. Ok, io ti aspetto qui. Grazie. Eh, ma ora che cosa? Dovremmo andare a prendere. Ok, ragazzi. Sì, ho riattaccato il riva un po' prima, quando ho preso quelle due cose, in pratica. Maria, sto partendo per Seattle. Vorrei poter restare, ma non posso. Ho bisogno di fare giustizia. Ellie cercherà di seguirmi, ma tu fermala. Prendile le armi e nascondi i cavalli. Chiudile in una stanza. Ti chiedo del tempo per farla finita. Ti amo tantissimo, Tommy. Aveva un cacciatore addosso. Voleva fugarlo. E Joel non arrivava alla pistola. Cavolo. Hai avuto paura? Beh, ho reagito distinto. Mi sono lanciata sull'arma, l'ho ferrata e... Gli ho sparato in faccia. Quanti anni avevi? Quattordici. Quanti anni avevi quando hai ucciso il primo? Un infetto, dici? No, un individuo cosciente. E non fungino. Dieci. Motosemo finiti, oh! Oh, e questa è la ZQ? Già. Occhio alle sentinelle. Stati dell'infezione. Stati o infetto 1. Il cordyceps ha assunto il controllo delle funzioni motorie della vittima. Rapidi e agili. Gli infetti allo stadio 1, in genere, viaggiano in gruppi. Non lasciate che vi circondino. Stati o infetto 2. Si nascondono e tendono imboscate alle vittime. Spesso aggirano la vreda per attaccare alle spalle. Avvicinatevi con cautela guardandovi all'intorno. Stati o infetto 3. completamente ciechi. Udito, molto acuto. Usano l'ecolo... Scusate. L'ecolo... 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 Gli infetti allo stadio 3 sono noti per i loro attacchi feroci ed estremamente letali. Stati o infetto 4. L'evoluzione sarà rara ma molto pericolosa dell'infetto allo stadio 3. Sono dotati di incredibile forza e sono in grado di lanciare proiettili... Oddio, sputato sulla mia scrivania... Proiettili acidi. Non affrontare. Transenne se assolutamente necessario. Ok. Allora. Quando arrivi al cancello cerca un soldato di nome... Chirn... 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 Diggli che ti mando io. Consegnagli il chilo... E ti farà entrare. Buona fortuna. Ok. Quindi cancello... Il cancello però... Non va a capire... Ok. Mamma mia che mi sono messo una paura. Ma scusate... Ma mi spiegate là come ci si arriva. Eh! Questa come ho fatto ad arrivare là? Non è possibile se questa ci arrivasse... Ma perché solo io non gliela faccio? Ah... Ah... Ahia! Eh dimmelo prima... Mannaggia a te che dovevo far così. Ok. Eh... Ho capito. Dina... Dammi una mano. Ok. Io resto di guardia. Tu cerca di aprire il cancello dall'altra parte. Va bene. Cancello principale. Cancello principale. 0512. Nord 01382. Nord 1. S1-S2 5345. OB. Ost. Ovest 1. 6118. 28. Ovest 2. 0451. Altro. Quindi facciamo gira... Ah... Stiamo preparando una grossa operazione a... E... Isac. Ci ha chiesto... Il Seravena... E' già qualcosa. Ci ha chiesto di rallentare il centro di ricerca di risorse. Recupera la benzina dal garage... Del tribunale e dalla cupola e portala al rifugio della base del Seravena. Ok. Ok... C'è... 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 ... Grazie a tutti